Il teatro Signorelli di Cortona sta facendo il pieno con una grande adesione da parte degli affezionati e adesso due settimane per i nuovi abbonamenti alla stagione teatrale. La risposta degli abbonati storici è stata infatti elevata ed adesso tutti coloro che vogliono aderire possono farlo entro il 14 novembre. Dal 20 di questo mese è poi aperta anche la possibilità di acquistare biglietti per i singoli spettacoli. Siamo soddisfatti perché abbiamo confezionato una serie di 12 appuntamenti di primissimo piano e sono sicuro che l'onda lunga di questo successo, di questa stagione, andrà anche oltre i confini regionali. Prosegue dunque il conto alla rovessa per la prima delle 12 serate in programma al teatro Signorelli. È una stagione davvero composita, una stagione che ha proprio delle chicche di particolarità, che riesce ad intrecciare grandi artisti, grandi registi, ma anche grandi testi, sia inediti, sia contemporanei e sia classici, storici. Quest'anno ci sono davvero dei nomi altisonanti da Corsi, Castellitto, Guzzanti, Gioelle Dix e anche la nostra Valentina Cardinale insieme anche ad un concerto della Coro Orchestra e dell'Orchestra Regionale Toscana con Daniele Rustioni come direttore. Quindi quest'anno davvero siamo tornati a dei livelli veramente importanti. Tra gli appuntamenti più attesi quello con l'attrice cortonese Valentina Cardinale in scena con Gioelle Dix in La Corsa Dietro al Vento. A cui noi vogliamo tutti molto bene perché l'abbiamo vista bambina a Cortona, figlia di Cortonesi. È stata qui al teatro due volte. La prima volta che è venuta fu l'inizio della pandemia perché praticamente dopo la sua interpretazione, due giorni dopo esplose la pandemia il teatro si è rimase chiuso per un anno e mezzo. Quindi la Valentina l'aspettiamo tutti quanti con grande soddisfazione e con grande simpatia.